segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la sera guido limpio parla di due eserciti che sono allo stremo sia da un fronte che dall'altro gli americani hanno con per parola del capo di stato maggiore mark milley ha riconosciuto il fatto che i rifornimenti dagli stati uniti sono arrivati anche maggiori rispetto a quelli richiesti dall'ucraina a che punto siamo siamo al punto che non basta far arrivare i sistemi d'arma bisogna imparare ad usarli e bisogna imparare ad usarli non soltanto apprendendo quale bottone schiacciare ma prendendo come si possono usare dal punto di vista tattico e questo richiede un po di tempo quindi l'utilizzazione tattica ottimale diciamo che richiede un apprendimento anche sul campo è una di quelle cose che in guerra insomma io non sono tanto d'accordo sul dire che ci sono due eserciti allo stremo non sono allo stremo ma sono ovviamente sotto molta pressione perché da un lato le rifornimenti russi sono stanno degradando di qualità sono stati tirati fuori dai magazzini it 62 carri armati degli anni 70 macchine che hanno 50 anni quindi non non sono le certamente l'ultimo strillo e non sono certamente adeguati a una guerra moderna sono stati usati dai parti di russi dei missili superficie aria che nascono come missili da crociera armati dei stati nucleari e se li stanno usando in modo convenzionale vuol dire che sono un po a corto degli altri c'è un problema quindi di rifornimenti da un lato dall'altro lato c'è un problema anche di dimensioni di materiale umano quando si leggono le cifre sulle perdite quotidiane di uomini ucraini è chiaro che questo mette sotto stress le forze peraltro sul terreno si vede che gli spostamenti sono micrometrici si guadagna un chilometro si retrocede di due non c'è una una evidenza di una soluzione alle porte dal punto di vista militare e questo giustifica quello che dice la nato è possibile che la guerra si prolunghi secondo me non con l'intensità che ha adesso possiamo arrivare a una situazione di quasi stallo che può avere una durata indefinita e questo presuppone poi c'è Stoltenberg che altri insomma osservatori parlano di andare oltre insomma di arrivare sicuramente al 2023 e poi vediamo ma questo poi diciamo prodromico alla soluzione politica soluzione tra virgolette perché se si andrà verso quello che alcuni prevedono una situazione tipo corea quindi con una linea di contatto dove non si spara più perché abbiamo finito le munizioni o quasi ma che non è pace questo presuppone una situazione altro che di guerra fredda indefinita in europa una situazione che impedirà per i prossimi forse non decenni ma per i prossimi anni qualsiasi tipo di rapporto utile tra occidente e russia il che dal punto di vista strategico è un problema perché in realtà io ho un sogno che è quello di vedere una russia diversa da quella di oggi con un altro tipo di governance integrata in un'unione europea con la complementarietà che contraddistingue queste economie da un lato energia dall'altro tecnologia però è un sogno di questo sogno è un sogno di questo sogno